Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, ricoverato d'urgenza, il noto attore, stiamo parlando di uno degli attori più popolari e più apprezzati al mondo. Prima di sapere di più vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 400 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. In questo video parliamo della rivelazione shock fatta dall'attore premio Oscar e stiamo parlando del grande Jamie Foxx che, sappiamo, a aprile 2023 ha fatto preoccupare la sua vasta schiera di fan. Jamie Foxx è stato ricoverato in ospedale, mi sono svegliato 20 giorni dopo, non mi ricordo nulla, queste sono state le parole del grande attore che ha subito una lunga operazione nella città di Atlanta, nello stato americano della Georgia, sono andato all'inferno e sono tornato grazie per l'amore che ho ricevuto. Queste sono state le parole di Jamie Foxx che ha voluto ringraziare i fan per il grande affetto. L'attore ha poi aggiunto, mi hanno detto che mia sorella e mia figlia mi hanno accompagnato dal primo dottore che hanno trovato, non ricordo nulla, è tutto iniziato con un mal di testa, queste sono state le parole di Jamie Foxx che però promette di tornare presto alle riprese e alla vita normale, tanta paura e tanto spavento per uno degli attori più popolari al mondo che, ricordiamo, ha 56 anni e ha interpretato film come Ray, la storia di Ray Charles e Gianco Unchained, facciamo i migliori auguri a Jamie Foxx affinché possa riprendersi presto e amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video, seguitemi anche sul secondo canale di Marco Liguori, il canale dei video di Kronka, seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale, ciao!